Bella Ischia Ponte Pattoli, la vera pizza napoletana con una promozione eccezionale riservata alle squadre di calcio. Menù speciale, antipasto XXL, giro pizza e vivita sui 15 euro, con 3 euro a persona che verranno restituiti alla squadra. Bella Ischia aperto tutti i giorni anche a pranzo, con specialità pesce e supernotazione. Bella Ischia Ponte Pattoli, il tuo ristorante da 3 punti. Bella Ischia Ponte. Bella Ischia Ponte. Bella Ischia Ponte. Bella Ischia Ponte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.